Salve a tutti e benvenuti su AllepitsTV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu su AllepitsTV. Andiamo con la nostra rubrica Pronosticando Live. Vado, speriamo di dare buoni consigli. Sassuolo Udinese. Il Sassuolo viene dalla vittoria di Napoli e l'Udinese ha maledettamente bisogno di punti, quindi io in questa partita vedo favorita l'Udinese, Cagliari-Samp. La Samp è in un momento magico, però il Cagliari vuole fare sua la partita. Qua vedo un pari. Benevento Spezia, sfida fra matricole. Benevento vorrà far sua la posta e gioca in casa, però lo Spezia è un osso duro. Non lo so se ce la farà il Benevento a vincere questa partita. Vedo anche in questa partita un pari. Parma-Fiorentina. La Fiorentina si deve dare una svegliata perché altrimenti commisso si arrabbia. Quindi andrà a Parma per far sua la partita. Non lo so se ce la farà, però io gli do il vantaggio. Atalanta-Inter, grande partita. L'Atalanta viene da una scoppola madornale in Coppa Campione. L'Inter non è riuscito a far sua la partita sempre. Anzi, ha perso addirittura con Real Madrid e quindi ha complicato la sua posizione in Coppa. Quindi qua è una sfida fra deluse. Il vantaggio mio è dell'Inter. Genova-Roma. Genova è quasi all'ultima spiaggia. Ha perso anche il recupero col Torino. Però io in questa partita, onestamente, vedo favorita la Roma. Torino-Crotone. Il Torino si è ringalluzzito vincendo il recupero. Però il Crotone gioca sempre. Dove il vantaggio al Toro? Però non lo so. Bologna-Napoli. Il Napoli ha vinto sudando in Coppa. Quindi vuole rifarsi anche in campionato. Quindi andrà a Bologna a cercare di portare a casa la partita. Se c'è cazzimma si può fare. Altrimenti diventa dura. Vantaggio del Napoli. Milo-Verona scopla madornale del Mielo in Coppa. Quindi vorrà rifarsi subito in campione. Però il Verona è un osso duro. Darà filo da torcere. Non so se ce la farà il Milo a vincere questa partita. Perché il Verona è un osso duro. Suo allenatore lo fa giocare bene. Nonostante abbia cambiato molto. Quindi do il vantaggio al Milo. Però è molto difficile. Che ne verrà a capo di questa partita. Con questo vi saluto. E vi rimando. Alle prossime. Come sempre. All the bits tv. All for you. Tanto prima o poi viene pure. Tu. Arrivederci. All the bits tv. Grazie.